eccoci qua 1798 Thomas Malthus fa un ragionamento e dice ok la popolazione mondiale sta aumentando 1798 sta aumentando in una progressione che diventa geometrica mentre le risorse possono aumentare solo in maniera aritmetica anche questo è un ragionamento che lascia il tempo che trova visto oggi nel ventunesimo secolo fatto sta che sostanzialmente il ragionamento che faceva Malthus era prima o poi arriverà un'epidemia prima o poi arriverà una guerra qualcosa farà in maniera che non ci siano più le risorse per le persone di poter sussistere e vivere di conseguenza moriranno molte persone questa cosa non si è avverata e anzi ho delle argomentazioni molto interessanti da condividere con voi ma lo farò molto più avanti tuttavia ci si è resi conto che le risorse che ci dà il pianeta sono finite non nel senso che sono terminate ma nel senso che non sono infinite in pratica abbiamo risorse limitate sono in quanto limitate non possono permettere dal punto di vista economico una crescita continua a meno che non si scoprano nuove tecnologie nuove applicazioni delle tecnologie se ci si limita solo ed esclusivamente alle risorse del pianeta il risultato sarà solo ed esclusivamente quello di una crescita che prima o poi comincerà a rallentare o ad andare avanti più piano più in maniera più moderata in maniera più tranquilla effettivamente ne abbiamo parlato qualche giorno fa i limiti della crescita sono anche questi paesi che si sono evoluti molto in passato ora cominciano ad avere delle crescite un po più contenute magari dovute anche ad altri elementi ma tuttavia anche a questa limitazione delle risorse se ne potrebbe parlare per ore di questa ma ho promesso di parlare solo per due minuti ci vediamo domani ciao a tutti